Allora, questo è l'incontro per quelli programmati con Luca e Andrea. Le altre, spero le abbiate seguiti, siano stati di vostro interesse. Prosegue l'analisi e io ringrazierei Luca per il lavoro che ha fatto. Il tema questa volta mi sembra diventi, ho già avuto occasione di vederlo un po' di tempo fa, mi sembra diventi interessante anche lato comunicazione, lato idee per quanto riguarda anche l'attività che rivolgiamo all'interno del consorzio, quindi quali stili dove andare, in che modo, quale tipo di interesse vi sia su prodotto. Ritengo che ci stiamo piano piano approfondendo e migliorando un pochino anche questo lavoro a cui io personalmente tengo molto e penso sia importante che il consorzio affini piano piano le armi anche di un'analisi su quali siano gli strumenti migliori per fare promozione, quali siano i canali di commercializzazione, gli stili di prodotto, sempre più interessanti. Io lascerei la parola a Luca e poi si interverrà magari durante la riunione, se vuoi Luca fare anche qualche domanda o può involgere un pochino anche la platea. Certamente. Grazie. Grazie Presidente intanto per questa introduzione. Allora, oggi diciamo siamo alla quarta puntata dell'osservatorio, delle relazioni insomma che sono state fatte di un lavoro iniziato ormai più di un anno fa, intervallato un po' da qualche episodio insomma di Covid, se così vogliamo dire, anche se adesso speriamo che insomma ne siamo abbastanza fuori e l'osservatorio si era dato un obiettivo, come la stessa parola dice di osservare in modo approfondito tutto quello che era in mercato, dallo scaffale, la parte on trade, più tutta quanta insomma l'opinione degli operatori del settore per comprendere al meglio, come ha ben detto Albino, quali azioni sia in termine consortile che in termini aziendali possono essere attuate per chiaramente andare a creare valore aggiunto. Quello che si fa oggi è un po' un riassunto di quello che si è fatto durante quest'anno e poiché l'ultima volta si erano ipotizzate determinate ipotesi, ipotesi di quello che insomma da quello che se ne era tratto durante lo studio di questi insomma dei precedenti nove mesi si erano ipotizzate alcune azioni possibili o comunque aree di interesse dove agire. A questo praticamente è stato seguito una, in base ai risultati, delle ipotesi fatte, delle osservazioni avuto, una survey praticamente operata tra gennaio e febbraio di quest'anno con un invio a circa 1000 operatori del settore, quindi intenzialmente non catene ma comunque distruttori e importatori a medio tier in circa 25 paesi, dove praticamente gli si chiedeva in base a tutte quante le osservazioni qual era la loro opinione, in modo da avere un campione utile per studiare quelle che sono le ipotesi e capire meglio anche nei confronti degli operatori quali potevano essere le migliori mosse da fare. Diciamo che il riscontro è stato abbastanza buono, circa un 20% di campione ha risposto, insistendo un po', però insomma hanno risposto con circa appunto un campione di 205 risposte su circa 1000-1050 inviuti o meno presi come campione. Quindi non mi soffermerò troppo sull'introduzione che ormai su queste tre puntate abbiamo già fatto e seguirò un attimino, farò un riassunto di quelle che sono le precedenti, di tanto per andare per punti e poi mi soffermerò un po' di più su quello che è insomma quest'oggi e la survey che è stata fatta. Quindi andando un attimino insomma, andando un attimino appunto nell'approfondimento di quello che è, abbiamo visto che appunto aveva l'obiettivo dell'analisi, presentazione dei criteri, riassunto degli incontri precedenti e poi andiamo un attimo a vedere quello che è l'on trade, i risultati del survey, le analisi e le conclusioni che insomma per capire un attimino per arrivare anche alla fine e per fare un sunto di questo survey. Come ho detto siamo diciamo alla fine di questo ciclo anche se non è un ciclo che finisce perché come abbiamo già accordato con Nazareno una volta anche per quello gradisco che ci sia anche una discussione alla fine di queste presentazioni per interfacciarsi e capire al meglio come, che tipologia di proposte utili possono essere messe sul piano, sul piatto per andare insomma a veramente in modo concreto a fare delle azioni che possono migliorare tutto quello che è il valore aggiunto appunto della dominazione. Gli obiettivi sono sempre gli stessi, misurare e comprendere i mercati, una strategia, un'osservazione di competitor perché ci sono e poi aumentare le vendite in alzamento del prezzo per vulnerare tutta la filiera. Scusatemi, andato via. Criteri di analisi sono sempre quelli, rilevazione di prezze scaffali, studi di macrodati, rilevazione delle annate che è estremamente fondamentale, soprattutto sui problemi di catena di approvvigionamento attuali. Questo è un tema che reputo estremamente importante nei prossimi 18 mesi a seguire perché se abbiamo dei dati molto promettenti su quello che è la parte dell'imbottigliato facciamo fatica a comprendere su tanti mercati quali sono i dati di sell out effettivi perché fino a poco tempo fa c'erano ancora molte annate vecchie e è una delle cose molto importanti da capire per i prossimi 18 mesi appunto sarà quanto di questo imbottigliato è andato a fare un approvvigionamento di stock per paura di rannare auto stock oppure invece è andato in effettivo sell out. Queste sono veramente una cosa... speriamo che sia andato in sell out e non ci saranno una ricaduta di annate quindi di trovarci a 2023-2024 con ancora annata 2019-2020 perché sarebbe non il massimo a riguardo. La comparazione fra i prezzi medi quindi capire un attimino competitor e tutto quanto. La rilevazione dei venti quali problemi quindi posizionamento, immagine, comunicazione, l'EDO eccetera eccetera. Valutazione delle categorie dei competitor, stima di quella che è l'importanza dei mercati in volume e un po' un'analisi di marketing generale per identificare quello che è il target alla fine. Un piccolo risunto dello step 1. Sulla prima puntata si sono andati a prendere le macro aree, quello che è il Nord America, quello che è UK, l'Europa centrale e un po' i mercati nel Nord. Aree completamente diverse, tre di queste abbastanza mature a deccezione diciamo della parte centrale europea dove c'era la Repubblica Ceca si voleva fare una comparazione con un diciamo un mercato in forte crescita per il vino italiano e poi appunto un mercato invece quello dei mercati nordici dove praticamente chiaramente il Pinot Grigio non ha un grande interesse o meglio i vini bianchi italiani non vanno moltissimo che però dove a nostro personal parere ci sono delle ottime potenzialità se attuate determinate strategie. Dopo casomai ci ritorniamo, casomai li analizzeremo senza tanto ritornare dietro che insomma è già stato fatto in un paio di puntate. Nello step 2 si è andato più a segmentare quindi a comprendere soprattutto anche introducendo tutto quanto segmento online a comprendere un attimino quelle che sono effettivamente i paesi che hanno il maggiore interesse non quelle che sono i mercati solo storici o comunque che hanno che sono delle aree, delle macro aree a grandi interesse per determinate ragioni ma sebbene sia anche una segmentazione in cui i paesi che effettivamente hanno un grande interesse per la denominazione anche questo grazie all'aiuto dello strumento di vino che i cui ragazzi ci hanno fornito i dati praticamente di scannerizzazione inerenti alla Dio e alla Dio delle Venezia e Pino Grigio per dirci esattamente quant'era appunto l'incidenza dove infatti a sorpresa di tutti è venuto fuori che la Russia era il paese dove questo strumento nei confronti di Pino Grigio c'era più interesse, c'era più interesse di scoperta e un po' sorpresa di tutti chiaramente. Infatti vedete qua insomma che era un attimo la tabella su su quelle che sono gli indici di ricerca. Dopo chiaramente in questo momento la Russia qualche problema non ce l'ha anche se mi sembra di vedere nelle ultime due o tre settimane anche con la stabilizzazione un attimo del rublo gli ordini e le richieste di ritiro cominciano a pervenire un po' a tutti quanti quindi insomma spero di essere fiducioso e speriamo che le cose si risolvano un po' in quanto lo giudichiamo un mercato dall'estremo interesse dove sicuramente investire nella denominazione. Andiamo allo step 3 dove lo step 3 praticamente si era che forse questo non lo avevano visto tutti anche se era chiaramente sul sito. Qua praticamente è stata fatta un'analisi dopo tutta questa osservazione un attimino di rischi di mercato quindi qua si era già cominciato a parlare con gli operatori si era cominciato già a fare una valutazione di categoria e comprendere effettivamente quali erano, ipotizzare tutti i rischi che ha il mercato in base a quello, in base alle relazioni precedenti dove appunto c'era il rischio di mancanza di identità in quanto sappiamo bene che ci sono moltissime denominazioni sia nel sistema Triveneto che nel sistema Italia per quanto riguarda il pinot grigio che fanno tendenzialmente un po' di confusione a quello che è il consumatore in modo ovvio. Molte volte un uso della denominazione doc delle venezie come benchmark di base quindi si dice ok questo è il base e il resto ci sta tutto quanto sopra che invece non sempre è così o tante volte non è non è comprensibile insomma per il consumatore. Una perdita di opportunità ai mercati nascenti ci sono molti mercati abbiamo detto molte volte abbiamo preso anche in considerazione il Brasile parlando anche con un paio di piattaforme e-commerce piuttosto importanti che le opportunità su questi mercati dove tendenzialmente magari i mercati nuovi molte volte si bevono molti vini rossi ad alto residuo con un grande corpo per tutta una serie di motivi e magari il vino bianco è una cosa che arriva magari dopo dove invece magari il prosecco è già arrivato dove c'è una grande opportunità e la grande opportunità è di insegnare da insegnare fino all'inizio al consumatore dire cos'è il vino bianco? Il vino bianco è il vino grigio d'oltre delle venezie quindi bisogna stare attenti a non farlo questo soprattutto a fronte dell'anno scorso il rischio di una ridotta da rimunerazione per la filiera è piuttosto importante fortunatamente quest'anno visto in generale tutto quanto quello che è stato la situazione è stata migliorata chiaramente una considerazione a strega di una commodity ci sono molti mercati e molti operatori che considerano il vino grigio e me come una commodity e sicuramente è un rischio per tutte le dominazioni molto stabili e molto sviluppati in molti mercati eh il rischio di perdere posizioni commerciali perché magari il consumatore cambia invecchia le abitudini cambiano ci sono altre dominazioni che sono più pronte e fanno migliore comunicazione eccetera eccetera e appunto si era fatto tutta un'analisi di quelli che erano le potenziali soluzioni per contrastare i rischi ehm e appunto si erano divise appunto due macro categorie soluzioni B2C e soluzioni B2B quindi praticamente era stata fatta un'analisi preventiva su tutte quelle che erano le osservazioni ipotizzato appunto delle soluzioni e quindi se in B2C quindi verso consumatore si erano ipotizzate eh un'immagine coordinata nel canale off premise con una migliore identità eh si era eh chiaramente ipotizzato un'immagine coordinata su tutti quanti i portali web che ormai è un canale che soprattutto in termini comunicazioni essendoci l'opportunità di fare una call to action diretta al consumatore quindi dare un messaggio e dare l'opportunità di acquistare direttamente il prodotto è molto importante e e poi chiaro l'ipotesi quindi l'immagine identificativa nel packaging per il riconoscimento della denominazione perché chiaramente denominazione è molto grande ehm l'opportunità come fatto già in precedenza da molte altre denominazioni nel mondo un elemento identificativo per riconoscere a tutti che eh quella bottiglia appartiene dal docco della Venezia potrebbe essere sempre interessante dall'altro appunto una soluzione B2B che è per lo più eh tutto quello che è insomma il il supporto il supporto alla conoscenza dell'expertise quindi semplicemente non denigrare il prodotto pino grigio bensì andare a investire sulla preparazione degli operatori professionali di servizio non solo per praticamente innalzare la percezione e il racconto lo storytelling che si va a fare verso il consumatore eh sulla ristorazione direttamente con concorsi immagini coordinate gala dinner wine week eccetera eccetera e altrettanto appunto tutta la parte mediatica quindi l'incambio sul territorio la riconoscibilità l'approfondimento sul rosè l'approfondimento sul rosè che è sicuramente una categoria di mercato da prendere in considerazione e che può diventare molto importante e sicuramente anche una divisione di concorsi dedicata quindi fare comunque delle visioni di concorsi completamente dedicata al pino grigio ora andiamo a focalizzarci un attimo su quello che è lo step insomma che di cui stiamo parlando oggi allora eh lo step 4 praticamente prende soprattutto a ehm in rilevazione eh long trade che però sappiamo essere un un settore che è sempre difficile da eh segmentare in modo unico e quindi prende un operatore che faccia solo un trade sappiamo che la maggior parte dei dei distributori fanno sia un trade fanno un po' di off trade un po' di più un po' di meno ci sono sempre entrambi quindi non trade essendo comunque eh essendo essenti dei dei numeri ben precisi come magari dei macro dati comunque delle rilevazioni in generale scaffali si possono fare eh abbiamo sicuramente è più è più un lavoro diciamo di parlare con gli operatori che non effettivamente andare a rilevare dei dati se non per tutta una serie di rapporti di conoscenza commerciale e tutto quanto quindi ehm quando si parla di intervistare direttamente un operatore eh qual è l'obiettivo? Numero uno profilare chi sta parlando davanti a noi quindi cosa fai, da dove sei, dove vai eccetera eccetera eh una rilevazione di paesi con maggiore feedback quindi chi ti dà tanti feedback siccome abbiamo fatto una cosa abbastanza proporzionale in termini di invio eh abbiamo eh chi ci ha dato molte risposte tendenzialmente vuol dire che abbastanza sensibilità sull'argomento magari sono più bravi o più sensibili a livello commerciale però tendenzialmente diciamo se ci arriva una survey di un argomento che ci interessa tendiamo più a rispondere rispetto a un a se non ci interessa ehm una verifica eh dell'analisi preventiva operata quindi la survey ci serve a dire ok abbiamo fatto delle ipotesi le propongo una platea se la platea mi conferma che eh effettivamente queste ipotesi sono interessanti eh andiamo comunque a a confermarle o a o a negarle insomma e dopo appunto eh la verifica come ho già detto delle potenziali soluzioni ipotizzate quindi abbiamo fatto delle ipotesi un'analisi preventiva abbiamo fatto delle soluzioni andiamo a verificare sia le ipotesi che le soluzioni appunto ipotizzate quindi come ho già detto in modo prioritario la survey è stata fatta tutta un'analisi preventiva su un campione di ehm di operatori del settore quindi un lavoro molto insomma molto semplice insomma eh prendere sul telefono e cominciare a parlare con un operatore di tutto il mondo e dire ragazzi mi serve un'informazione sul pino grigio mi serve questo 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 cosa ne pensate eccetera eccetera ho preso un campione di circa 50 operatori e ho fatto tutta quanto una serie di ipotesi preventive su quello che era l'on trade dall'analisi preventiva dove che era stato focalizzato soprattutto su USA e UK come mercati insomma abbastanza importanti e maturi per quanto riguarda ehm il pino grigio e soprattutto per un fattore eh di valutazione di rischio che avevamo eh detto prima eh ne era emerso questo che nel mercato on trade una delle maggiori minacce e competizione che stava emergendo era apero spritz e rigid drink che è una categoria è un nastro che sta continuando chiaramente a a macinare volumi e chiaramente dicevano molti eh e questo soprattutto agli Stati Uniti moltissimi consumatori che prima andavano a bere pino grigio ehm come poi si vede si sono spostati in parte sui vini rosati da circa otto nove anni questa parte eh con tutti i pro e contro e sicuramente negli ultimi tre quattro anni si stanno spostando più su una parte di spritz su una parte di trade to drink come proprio stile di consumo in quanto sappiamo benissimo che fuori dall'Italia ehm il consumo effettivo del vino non è esattamente abbinato al pasto anzi quindi chiaramente lo stile di consumo molto simile il consumatore profilato molto simile e quindi andava a rubarci un po' di spazio e dopo altrettanto come ne era ammerso che sicuramente Sauvignon Blanc Nuova Zelanda si stava più o meno nello stile eh nella comunicazione e tutto si stava ponendo come alternativa ancora nella nella profilazione del target tipo eh come alternativa al pino grigio con un valore però più elevato con caratteristiche diverse però di base si stava imponendo come una cosa di questo genere quindi andiamo a vedere la survey come è stata strutturata e capiremo bene che insomma alcune cose belle interessanti ne sono venute fuori allora numero uno come ho già detto abbiamo avuto circa un 20% eh di incidenza eh su quanto riguarda l'invio quindi mille mille cento invii quindi operatori diversi circa un 205 distributori in tutto il mondo eh i paesi totali sono 22 ok quindi vediamo un attimino dove sono arrivate le risposte quello sicuramente più eh pronunciato sono gli Stati Uniti buona buona risposta Germania Irlanda UK Belgio quindi insomma c'è stato abbastanza ed è stato fatto in modo abbastanza proporzionale quindi in base eh a a tutto quello che che insomma eh c'era ehm numero uno eh quindi praticamente andiamo a vedere un attimino eh quanti pinot grigio hai nel tuo portfolio e abbiamo detto che appunto da da uno a tre eh ha risposto alla maggior parte quindi tendenzialmente su tutti gli operatori possiamo ipotizzare anzi lo ve lo dico direttamente che la siamo andati a prendere operatori tendenzialmente che non sono giganteschi ma comunque un small to medium tier ehm che molti hanno appunto risposto che tendenzialmente eh il pinot grigio ce ne sono solo alcuni e di questi praticamente la maggior parte hanno detto che più del 50% italiano quindi qua già è sicuramente una risposta abbastanza incoraggiante eh dall'altro abbiamo domandato di questo diciamo più del 50% quanto sono eh doc delle venezie e chiaramente invece dall'altro più del 50% c'è risposto che meno del 50% sono praticamente i pinot grigi dell'odotto delle venezie quindi praticamente appartengono a un'altra bio eh pinot grigio italiano ehm quindi praticamente dopo abbiamo domandato qual è ehm effettivamente il volume o comunque il fatturato sviluppato dal pinot grigio all'interno del tuo volume e il tuo portfolio eh tutti quanti comunque in modo generale hanno risposto minore del 3% quindi comunque valore marginale sappiamo benissimo soprattutto in un trade è un prodotto ehm a prezzo non estremamente elevato quindi comunque possiamo identificare tranquillamente che hanno una parte marginale del portfolio quando ha una parte marginale un prodotto non possiamo trovo pensare che un distributore ci dedichi la maggior parte all'investimento che quindi serve a questo comprendere la cosa eh qua c'è stato appunto più o meno ancora la maggior parte appunto hanno detto che più del 50% del loro business è un trade come abbiamo sempre detto c'è sempre un mix all'interno una parte tra il 30 e il 50 una parte meno del 30 l'on trade è sempre comunque una parte del business abbiamo preso sicuramente operatori che fanno un ottimo on trade ma sappiamo benissimo che in molti stati la parte off trade che viene comunque connessa direttamente all'online e wine shop diretti perché viene considerato tale eh è è abbastanza e sono misto su questo ehm dopo abbiamo domandato in modo diretto che magari questa è una una risposta che magari sorprende un po' e abbiamo domandato eh in termini di segmentazione nella nella buona azione il pinot grigio è più richiesto in on trade o in off trade quindi a scaffale o in on trade e tutti ci hanno detto sì ok anche se il mio business è magari eh sposta è fa facciamo on trade ma sicuramente per una parte off trade la maggior parte richiedono appunto anche se abbastanza bilanciato eh sull'on trade quindi ancora un ottimo pensiamo soprattutto agli Stati Uniti e possiamo ben capirlo perché chiaramente eh la maggior parte praticamente il 35% del campione di risposta è arrivato agli Stati Uniti che hanno dato grande sensibilità a questo eh hanno detto praticamente che ehm sappiamo benissimo il Sunday brunch ehm come prodotto entry level il pinot grigio chiaramente fa ancora da principe su tanti quanti su su moltissimi ristoranti andiamo avanti un attimino che magari qua fino a qua abbiamo un attimo profilato semplicemente che avevamo davanti per arrivare a tre domande molto semplici di verifica numero uno qual è il rischio più grande a vostro personal parere eh qual è il più grande competitor qual è il fattore di di competizione appunto più grande che hai sul mercato e ci dicono che appunto ehm la maggior parte hanno risposto che ehm il più grande competitor il pinot grigio di Occo delle Venezie ehm sono i i vini bianchi da da altri da altri da altri paesi eh circa un 37% altri vini bianchi italiani una piccola parte eh un pinot grigio da altri paesi seppur ripeto noi facciamo se non sbaglio qualcosa tipo il 43% 42% totale della pinot grigio mondiale ehm devo dire che insomma mh evidentemente non si teme viene abbastanza riconosciuto in modo internazionale la provenienza del pinot grigio dalla parte italiana e so e pochissime ho detto l'apero spritz quindi qua per esempio abbiamo una una chiara identificazione che dicono ok perfetto guardate sì Sauvignon Blanc lo teniamo ah però spritz non lo teniamo anche se chiaramente è un campione che non è la velocità però prendiamo un campione e capiamo un attimino eh quale può essere eh la giusta via a seguire eh siamo andati appunto ehm cosa il consorzio o comunque l'associazione di produttori potrebbe fare a vostro parere per aumentare il valore del pinot grigio d'oltre delle venezie quindi abbiamo detto la maggior parte hanno risposto aumentare la comunicazione verso il consumatore questo penso sia una cosa che anche con Nazareno anche con Albino abbiamo visto molte volte sicuramente un maggiore un maggiore peso da parte di tutti alla denominazione a pinot grigio che tante volte viene usato un po' come diciamo il prodotto da da commodity prodotto entry eh sarebbe interessante darlo e far capire quanto dietro c'è un territorio ci sono tanti produttori eh ci sono tante ehm tante famiglie appunto che comunque eh danno qualità danno prodotto e comunque c'è un sistema dietro il pinot grigio e quindi sarebbe molto bello insomma migliorare un po' la comunicazione su questo eh moltissimi dicono eh come abbiamo detto ehm che in termini ormai penso sia insomma worldwide questo la sostenibilità e l'interesse per per l'ambiente quindi comunque fare produzione sostenibile biologico non biologico varie certificazioni ehm pochissimi per esempio hanno risposto che usare lo stesso tipo di bottiglia quindi una bottiglia marchiata una bottiglia consultile tantissimi hanno detto che pochissimi hanno detto appunto che può essere interessante invece molti appunto abbastanza diciamo uno uno su quattro ho detto che potrebbe essere una buona idea la creazione di un sistema di qualità addizionale all'interno del consorzio come riserva superiore, voyage, crew eccetera 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 tanto per capire un attimo il concetto poi chiaramente sarà eventualmente il consorzio che identificherà la miglior via. Infine abbiamo questo chiesto eh che era una delle parti che era un attimo immersa per capire un attimino insomma che si era pensata una possibile soluzione se appunto una eh piccola ehm etichetta non so se molti di voi sono sono familiari insomma con molte denominazioni spagnole che in in retro etichetta praticamente una piccola banderuola che chiaramente è la nostra banderuola che si mette praticamente all'interno è la banderuola di stato eh loro praticamente hanno una piccola banderuola con un eh con una piccola diciamo una sorta di ologramma prima stampato su sull'amina eh a identificare quella che è la la denominazione una piccola etichettina comune a tutti i produttori che vada a fare anche con un QR code o dare alcune semplici indicazioni al consumatore per eh farle sentire parte appunto di quello che è eh l'adotto delle venezie magari rispettando determinati determinati paradigmi e determinate somma regole che ci si può andare all'interno del consorzio potrebbe essere molto interessante per aumentare appunto la qualità perché se da una parte ormai le retro etichette sono molto standard se si riuscisse in modo comune a dare una determinazione una perché alla fine la pubblicità le fanno le bottiglie se ci sono 200 milioni di bottiglie fuori a scaffale o dove per se siano e ci sono 200 milioni di strumenti ogni anno per comunicare al nostro bellissimo consumatore cosa possiamo quindi insomma sicuramente c'hanno abbastanza è stata una prominenza di persone che ho detto può essere molto interessante quindi tanto per riassumere un attimino la cosa 60 per cento eh più del 60 per cento del campione hanno meno di tre pinot grigio in portfoglio eh più del 65 per cento hanno prevalenza italiana come origine più del 65 per cento di quelli italiani non sono adotto delle venezie all'interno del portfoglio 75 per cento intervistati dicono il pinot grigio rappresenta meno del 3 per cento di fatturato più del 40 per cento hanno più del 50 per cento di distribuzione non trade eh più del 55 per cento dice che il pinot grigio maggior mark per richiesto in non trade più dell'ottanta per cento considera altri vini bianchi il maggior pericolo e di questi circa 40 per cento considero che il eh più grande rischio sono gli altri vini bianchi italiani che non sono stati specificati può essere anche pinot grigio o altri ehm più del 55 per cento pensa che è necessario aumentare la comunicazione verso il consumatore eh il 30 per cento pensa che sia necessario aumentare la sostenibilità del sistema il 26 per cento pensa che sia necessario creare un sistema di classificazione aggiuntiva e più del 60 per cento pensa che la creazione di un'etichetta aggiuntiva per tutta la DO eh possa dare chiaramente una spinta in avanti verso la comunicazione per il consumatore ok quindi una volta fatto questo come ho già detto sì 25 risposte su circa mille invi e 22 nazioni di campione ehm un due due cose molto semplici a eh confronto con l'analisi preventiva eh sulla sull'analisi preventiva come avevo già detto non era era stato ipotizzato che l'apero spritz e gli R2D R2D erano ehm un rischio piuttosto importante in verità emersi dal campione che eh c'è più rischio a personal parere di altri vini bianchi piuttosto che ehm dell'apero spritz magari la situazione di erna è questo magari domani può cambiare ehm non viene considerato interessante lo sviluppo di una bottiglia consortile eh è ritenuto molto importante aumentare la comunicazione verso il consumatore questo era chiaramente un completamente concordo su quello che si era eh detto già in analisi preventiva e eh viene ritenuto molto interessante appunto la creazione di un'etichetta informativa che possa comunicare direttamente al consumatore attraverso le bottiglie ehm quindi finito un attimino quello che è l'analisi del survey eh vi chiedo se c'è qualche domanda a riguardo altrimenti vado a fare un attimo una conclusione di quello che sono state queste quattro puntate questo lavoro fatto all'osservatorio che come ho già detto seguirà poi anche rispetto a un confronto che ci sarà con tutti i produttori eh per capire un attimino eh quello che è insomma le 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 azioni eh interessanti e le azioni eh concrete che si possono fare da parte consorzio per andare appunto a aumentare questo questo valore aggiunto della bottiglia ci sono i con ci sono sono attivati i microfoni sì sì Luca potremmo tornare su quella slide sintetica con i punti con questa quasi che possa riassumere un po' tutto e con questo davanti possiamo fare tante valutazioni insomma a me ha colpito un pochino che il solamente il 30% pensi che sia necessario aumentare la sostenibilità del sistema quindi noi ci stiamo lavorando molto ma penso che questo tema sia forse meno interessante all'estero rispetto che eh all'interno eh no no quello poi anch'io concordo che la creazione di una forse nemmeno l'etichetta ma forse la capsula come viene un po' per i vini dell'atto adeggio per altri paesi facilmente identificabili potrebbe fare qualcosina in più c'è da dire che noi avremmo anche la fascetta forse da valorizzare un pochino meglio quella è comunque una ma lascerei alla discussione un pochino a tutti ecco per me è interessantissimo sto lavoro e ti ringrazio perché in duecento risposte su mille è comunque buono c'è stato un buon interesse diciamo così in riferimento ad altri vini bianchi italiani sono stati fatti anche dei nomi di appellazioni o altri vitigni oppure è molto generico? no perché in termini internazionali qualsiasi cosa menzionata in termini autoctono italiano già ci si mette si va fuori di testa ormai sappiamo benissimo che la frammentazione del vino bianco italiano è molto elevata certo ci sono molte appellazioni che sono le 20 30 milioni bottiglie sono veramente molto interessanti ma la frammentazione no non è stata fatta questa che il 65 per cento di quelli italiani non siano doc delle venezie insomma però però sai doc delle venezie abbiamo analizzato sulla prima sul primo giro di rilevazione sui mercati maturi al vino doc delle venezie è un prodotto abbastanza di mass market noi siamo andati a targetizzare degli operatori che sono medio piccoli appositamente perché ci interessava l'on trade e l'on trade sai benissimo ci sono altre cose 22 di o solo insomma che non sono doc delle venezie perché non c'è solo doc delle venezie c'è friuli trentino c'è venezia eccetera 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 come c'è colini pescaresi come c'è gt via via come c'è sicilia cioè io non ho detto doc delle tre venezie ho detto doc delle venezie quindi c'è la numerica molto alta e si può ben capire che se parliamo di sappiamo benissimo che all'interno della doc delle venezie tante volte ci sono piccoli produttori che magari non vogliono far parte per tutta una serie insomma di ragionamenti su posizionamento prezzo tutto quanto e quindi preferiscono praticamente andare su picco più piccole denominazioni ma ma lo sappiamo questo è anzi ci dovrebbe proprio dire questo che ahimè come consorzio sia magari un po distanti dalle piccole produzioni che in termini di presto quanto magari tante volte potrebbero fare su operatori medio piccoli che magari sono anche interessati al tema per capire come aumentare valore perché comunque altrettanto loro tante volte sono non competitivi per fare volumi più grossi come appunto gestire questa cosa quindi la vedo come una cosa sicuramente non bellissima però come una come un messaggio abbastanza chiaro dire siamo vicino anche i piccoli che ma forse qualcosina anche di valore aggiunto in più ci danno la sensazione per il futuro è che il pino grigio in generale abbia una riconoscibilità diciamo di massiva perciò basta il nome come succede per il prosecco cioè basta il nome il marchio identificativo è poco importante oppure la ricerca che va verso la riconoscibilità dell'etichetta l'innalzamento anche del livello riconoscitivo del pino grigio rispetto a a una massa come quella del prosecco questa è una domanda abbastanza difficile a cui rispondere perché si può dare una risposta più soggettiva che oggettiva posso rispondere con una serie di osservazioni fatte e allora noi abbiamo come consorzio come come territorio e punto molto su questo fattore del territorio abbiamo delle 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 caratteristiche che probabilmente l'ungheria la california l'australia non ok possiamo menzionare dolomiti venezia possiamo menzionare le olimpiadi possiamo menzionare un sacco di cose un territorio piuttosto particolare che condividiamo comunque con il prosecco che in parte condividiamo anche con la valpulicella con verona eccetera eccetera ed è comunque una riconoscibilità piuttosto importante è un'oggettiva bellezza ok chiamano così e chiariamoci non è che le persone bevano solo vino bevono anche un concetto bevono anche territorio bevono anche effettivamente una tipologia di prodotto perché il gusto si chiamano così il pino grigio si può anche riprodurre con altri vitigni cioè lo stile non è che non sia riproducibile quindi di base le persone che scelgono il pino grigio lo lo scelgono perché hanno fiducia magari in un brand in una standardizzazione quello che è non è importante quindi il discorso è questo si riuscirà a fare quello che si è riuscito a fare con il prosecco con un nome praticamente di denominazione che non è quello del varietale quasi impossibile si riuscirà se si vuole se si agisce molto bene e soprattutto ripeto ne avevamo pozzettato un paio di volte soprattutto su determinati mercati emergenti di andare a presidiare faccio un esempio sempre 30 40 anni fa ormai bordeaux è andato per primo in cino ha detto tutti quanti la cina ha detto si deve porre il bordeaux poi un po la volta è cambiato c'è stato l'australia il cile competizione mercato ma bordeaux continua a fare comunque ancora un grande mercato in cina arrivare per primi sul mercato e dire a tutti quanti cosa vuol dire vino bianco e dire che questo vino bianco vuol dire pino grigio per venezia un'opportunità che come stanno i mercati e mi sto riferendo sudamerica mi sto riferendo all'africa senza problema sto riferendo altrettanto essendo lo stile molto particolare a tutte quante quelle una serie di posizioni commerciali come il mercato turistico dalle crociere villaggi eccetera eccetera sono mercati a mio parere da presidiare in modo importante quindi la potenzialità di innalzamento di valore e prezzo della denominazione è enorme enorme in percentuale non in valore assoluto ma enorme in percentuale non tutti ci credono su questo la potenzialità enorme non abbiamo una denominazione così grande se volessimo effettivamente e prendete le mie parole con le pinze io mi ricordo ancora 15 anni fa ci fu qualcuno che disse avremmo bisogno di un miliardo di bottiglie di prosecco se volessimo abbiamo bisogno di un mezzo milione di bottiglie di pino grigio forse più e venduto a un prezzo del 50 per cento più alto di quello che lo stiamo vendendo certamente è facile no non è facile c'è un grande potenziale abbiamo grandissimo potenziale come territorio enorme non è facile sempre andare mettere da fordo tutti sappiamo che non è facile è una storicità incredibile 30 mila ettari di vigna è una supply chain da paura ripeto sì se parliamo di potenziale di innalzamento è incredibile e ripeto una delle cose che poi si analizzeranno per come la vedo io per come appunto la vedo io avere una discussione aperta con quelle che sono le altre io sono veneto scusate tutti per questo comunque sono altri veneto che abbiamo così del nord est vedere un attimo il polo del nord est la potenzialità che ha spumante vino bianco vino rosso quindi il trio brossecco vino grigio valpolicella è davvero importante si pensa sempre poco si cerca tante volte vedo che cerca un po di cannabilizzare uno con l'altro ma la verità è che potenziale veramente è per tanto 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 dopo si bisognerebbe cantare vigna forse in modo poco sostenibile però lo vedo lo vedo molto bene e l'entry level ci sarà sempre saranno sempre mercati che fanno accordi libero scambio assenza di accise posizionamenti perché la segmentazione non è data e questo lo dimostra anche gli stati uniti non è data solo dal prezzo di partenza è dato da tantissimi fattori e quindi e quindi l'entry level un accordo libero scambio con un paese piuttosto che l'altro può dare comunque una da una parte o l'altra il principio di promozione perché alla fine qualsiasi filiera del prezzo qualsiasi filiera di distribuzione va tende ad abbassare il margine di distribuzione quando chiaramente c'è massa critica quindi se noi puntiamo a un fattore di massa critica possiamo in qualche modo comunque costruire un marzo di valore un posizionamento accattivante per il consumatore che può dare grandi risultati potrebbe portare i numeri insomma che ho apportizzato prima ripeto opinione personale da persone insomma che si va a guardare un po gli scaffali in giro per il fondo continuamente e cerca di parlare insomma con tutti quanti gli operatori e comprendere al meglio quale quale potrebbe essere il futuro quali potrebbero essere quelle soluzioni sì il dato che emerge anche interessante comunque che il 65 per cento italiani non sono andato alle venezie è vero però il 65 per cento prevale come pinot grigio italiano quindi obiettivamente viene data al nostro paese l'egemonia o comunque anche la responsabilità di parlare di pinot grigio in ogni caso il per me il disorso del sistema nord est che vede l'insieme di 20 denominazioni 20 o 21 tra cui del venezia va visto insieme cioè non è che va visto delle venezia vincere o comunque annettere anche le altre denominazioni ogni denominazione deve correre anche un pochino da sé per fare in modo che cresca e tiri sui termini assoluti di quel 65 per cento di origine italiana e potrebbe esserci qualche forma di competitività voi lo sapete meglio di me sui pinot grigi non nord estini quindi quelli che non sono doc a livello nazionale mi sembra di capire comunque questa cosa si stia un pochino affievolendo e quindi obiettivamente viene lasciato al triveneto il compito di gestire la denominazione vuoi perché la puglia sta andando verso altri altri racconti vuoi perché la sicilia si sta dando la picca di portarlo ad hoc quindi ci sta che secondo me sia qua come dicevi tu luca l'onere di riuscire a accreditare questa porzione del nostro paese come la più grande produttrice di pinot grigio al mondo come in effetti e ma non solo di pinot grigio al mondo ma di del più importante bianco fermo italiano quindi a livello di numeri va bene pinot grigio ma ricordatevi che non esiste un competitor oggi a livello numerico come il pinot grigio del nord est chiamarsi delle venezie o altre doc dobbiamo renderci conto che questa responsabilità implica bisogno di fare una comunicazione adatta e quindi spendere dei soldini non solamente legati al delle venezie quindi un quacervo di impegni secondo me anche delle delle tre regioni per credere che questo sia possibile perché mi dice ma sarà difficile sarà difficile lo sappiamo che sarà difficile però ci viene data anche la possibilità di dire qualcosa di intelligente di fare delle proposte oggi non possiamo sottrarci all'onere della proposta quindi io credo che sia difficile ma sia anche accattivante pensare che dovremmo dire in maniera forte chiara al mondo che se vuoi un bianco italiano vabbè scegli quello che vuoi ma comunque a livello numerico il pinot grigio deve essere per forza presente sugli scaffali nelle carte vini perché è il bianco più importante bianco fermo più importante in italia che poi sia il bianco fermo che il bianco mosso siano tutte quante relative alla nostra area come dicevi tu la dice lunga anche su una ulteriore responsabilità perché ci stiamo giocando dico il paese intero ma quasi a me personalmente molto chiara questa responsabilità e ovviamente non ci dormo la notte però dovrebbe esserci un movimento credo e li piano piano riusciremo a farlo collettivo delle tre regioni in una a solo che oggi forse ancora un po zoppica ecco si tenta di accreditare la denominazione territoriale come vincente bene sicuramente però in termini di promozione tu mi insegni che piccolo e bello ma mica tanto insomma specialmente nel momento in cui devi affrontare il tema di essere la più grande denominazione di vino fermo italiano o comunque più grande territorio che lo produce sono altre domande altrimenti vado un attimo a trarre un attimo un paio di conclusioni in caso dopo possiamo farle andiamo avanti allora come accennavo ci sono un paio di conclusioni e le conclusioni che sono state portate sono di due tipi sono più che altro proposte non sono conclusioni dire vediamo questo 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 è un osservatorio ogni ogni step che abbiamo fatto abbiamo portato quello che si vede quello che c'è e e come e come può essere fatto la conclusione la vedo più in modo costruttiva una serie di proposte e di mosse che possono essere fatte non solo da consorzio ma anche dalle aziende e quindi ho separato le conclusioni essenzialmente su due parti una serie di proposte che vediamo in modo chiaro netto parlando con gli operatori parlando con i produttori con tutta con tutta la filiera che potrà essere fatta quindi numero uno azioni consortili quindi consorzio da valutare potenzialmente propedeutiche alla crescita e valore aggiunto perché è quello che ci interessa allora sicuramente è qua continuiamo a premere continuano a sostenere come riferimento sistema pino grigio nord est le parole appena adesso che hanno detto albino essere fulcro e faro di riferimento non essere una solo ma essere un coordinatore perché come ho già detto è giusto dare valore a ogni territorio perché non esistono solo grandi distributori grandi player esistono anche i medio piccoli che vogliono magari nel piccolo territorio trovare la valorizzazione lo storytelling necessario per fare margini e per fare distribuzione interfacciarsi con i sistemi di promozione quindi come ho già detto quello che ho detto prima in termini lo seco al pulicella ma come altre domenazioni creare assi di promozione vincenti sappiamo che la massa critica nel nelle bottiglie quindi distribuzione come negli investimenti di promozione fanno sempre la differenza per avere un risparmio per avere maggiore competitività per per avere maggiore penetrazione interazione con i territori nazionali pino grigio nel sistema italia è portabandiera ma c'è altro pino grigio in italia e un allineamento e un sistema italia sarà probabilmente in termini di brand mondiale sempre più forte con il sistema doc delle venezie doc delle venezie sicuramente all'onere e il riferimento e la capacità per farsi da portabandiere per farsi insomma da da apri pista su tutto e azioni di promozione per il consumatore messaggi chiari elevazione della conoscenza della doc tutti quelli che sono strumenti atti a dire al consumatore se bevi un pino grigio bello delle venezie dopo di conseguenza cadrà anche su tutte le altre combinazioni però messaggi chiari capire far capire cos'è cos'è il territorio cos'è il prodotto che c'è all'interno della bottiglia investimento di valorizzazione come dicevo prima nuovi mercati il pino grigio anzi su molti mercati essendo un punto di riferimento può farsi da apri pista e da guida anche per le aziende perché organizzando missioni su determinati nuovi mercati e insieme alle aziende quindi creando opportunità il sistema coeso di promozione valorizzazione può essere estremamente importante per aprire determinati mercati azioni valorizzazione sulla tipologia rosè e sulla sua unicità abbiamo visto prima abbiamo visto su la puntata precedente anzi due puntate fa che chiaramente rosè negli ultimi dieci anni come ribadito prima ha tolto delle degli spazi mercati chiaramente c'è stato un espload di provenza inizialmente poi chiaramente un'espansione di quello che è la versione rosè in tantissimi mercati ma possiamo affermare per quanto il mercato più per quanto mercato meno il rosè è oramai una categoria di prodotto che si era perso ma ormai anche grazie comunque anche la spinta un po mediatico che sta dando in termini d'italia anche il proseguo rosè perché comunque lo stile è sempre un rosè anche se è bollicina dobbiamo tenere in considerazione che abbiamo la possibilità di fare un pino grigio che è già un brand a se stante e abbiamo la possibilità di farlo rosè che è una cosa che viene praticamente prodotta solo qua perché le macerazioni appunto e comunque il colore rosè non vengono applicate in tanti tante altre produzioni perché è già complicato di sale il pino grigio e quindi è un'ottima opportunità che sarebbe bello tutti valorizzassero confronto della qualità del prodotto per la creazione di un standard più elevato quindi chiaramente il consorzio può farsi da porto a bandiera anche per dare delle indicazioni ai produttori all'industria agli operatori per aumentare la qualità media la qualità nel lungo paga sempre questo lo sappiamo un passetto alla volta niente di rivoluzionario però e soprattutto essere sempre anche osservare continuamente per il mercato per capire quale sarà il mercato fra dieci anni qual è lo stile di consumo e cosa in termini di vino bianco il consumatore fra dieci anni vuole estremamente importante per dare anche in termini di osservatorio enologico anche questo per dare delle indicazioni estremamente importanti alla produzione infine la valorizzazione di nuovi standard sostenibilità e quando si parla di sostenibilità non vuol dire solo sostenibilità biologico sqnp ma un sistema di sostenibilità per tutta la filiera di produzione dal produttore all'immutilatore al produttore a completa filiera al brand privato qualsiasi cosa la filiera viene remunerata il valore aggiunto e la creazione di valore sarà veramente a lungo termine e quindi è sicuramente impegno del del consorzio anche fare questa sostenibilità dall'altro abbiamo ipotizzato alcune azioni per le per le chiaramente per le aziende che sarebbe sicuramente interessante da seguire perché alla fine il consorzio come al solito è 50 fa il consorzio 50 le aziende alla fine il consorzio è composto da aziende alla fine è un po' come al solito un po' si tira da una parte un po' si tira dall'altra e si può fare veramente bene una maggiore centralità è preso alla determinazione sappiamo benissimo ma che credo che tutte le aziende qui qui presenti insomma abbiano abbiano un importante business sul pino grigio e sappiamo benissimo che il pino grigio tante volte subisce anche un un'azione commerciale passiva si dà per richiesta non è che si va ad essere estremamente aggressivi nella promozione del pino grigio perché comunque dopo ci si scontra con la competizione dei prezzi si scontra con tutta una serie di fattori che non è facile risolvere soprattutto in termini di prezzi posizionamento tutto quanto la valorizzazione di varianti di alta qualità questa è credo sia una parte estremamente importante come anche rosè poter fare che è un investimento lo sappiamo tutti non è mai facile però poter fare delle dei prodotti delle selezioni particolari ogni azienda che fa pino grigio per valorizzarlo al meglio può portare una percezione del valore del consumatore verso l'alto quindi anche questo è fondamentale per il consumatore per ma non solo il consumatore per i giornalisti per i blogger per qualsiasi persona che atta alla promozione del prodotto sicuramente può essere estremamente importante l'aumento della qualità media ma questo è molto collegato è sempre la qualità paga sempre perché la tecnologia aumenta tutto il mondo quindi aumenta la qualità e quindi fermarsi l'aumento della qualità della qualità è quasi impossibile anche questo una maggiore interazione tra aziende consorzio sulle azioni di comunicazione questo è tanto cioè ripeto il consorzio può avere tutte le belle idee del mondo ma se c'è l'interazione e se c'è la coesione con i produttori allora ne viene fuori un'azione spettacolare se invece c'è chiaramente il consorzio atto solo a promuovere senza chiaramente si fa una call to action senza prodotto senza dare possibilità di fare l'action allora perdiamo chiaramente il valore perdiamo anche l'investimento economico come ho già detto prima l'investimento su nuovi mercati il consorzio è un ente istituzionale può fare promozione può supportare può fare ma alla fine le aziende devono andare a vendere su determinati mercati innovativi che possono essere una grande opportunità per tutti e se fatto in modo coeso e organizzato con i consorzio possono portare una vittoria sia in termini di posizionamento prezzo che interessa a tutti perché sono nuovi mercati nuovi mercati richiano investimenti sono difficili sono instabili tutta una serie di cose quindi chiaramente servono i margini serve il posizionamento serve chiaramente la richiesta da parte del consumatore in ultima una maggiore spinta sui canali digitali in termini di lifestyle e qualità del prodotto questo è fondamentale cioè ripeto ci sono veramente poche aziende che vanno dire ok faccio amarone faccio valpulicella faccio che ne so valdobbiata ne faccio barò qualsiasi cosa sia diceva vado a promuovere il primo grigio in termini di comunicazione digitale non è facile è difficile tutto quanto quello si vuole però perché alla fine anche il marketing viene comunque budgetizzato in base a la profittabilità del del singolo del singolo segmento all'interno dell'azienda però questo sicuramente aiuta dare comunque la comunicazione coesa e generale aiuta verso consumatore queste sono un po le proposte insomma del dopo un anetto di lavoro che se ne sono state ricavate molti dati molte osservazioni che fanno percepire sicuramente a una situazione buona ma molto 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 migliorabile come dicevo prima il potenziale è enorme sta chiaramente alle aziende volerlo fare o meno perché comunque sul consorzio credo insomma ci sono tutte le intenzioni per poterlo fare questo è un po il quanto non c'è più niente quindi grazie per l'ascolto questo è un po il quanto bene nazionale io lascerei che queste raccolte di questi quattro puntate chiamiamoli così fossero poi inserite in una opera unica che rimane poi all'interno del del nostro sito però la vedrei tutta quanta raccolta perché questo di oggi che ha fatto luca è una sintesi di un lavoro che vi chiederei se non l'avete visto nella sua completezza perché gli stimoli che ci ha dato luca oggi sono ben più approfonditi nelle in tutte le slide precedenti ecco quindi anche quando parla di mercati era stata fatta una valutazione su quelli che fossero più 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 interessanti rispetto ad altri eccetera magari se le riassumiamo se le riconduciamo un unica un unico file ecco direi che forse diventa più interessante da leggere ecco 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 ecco